Ciao a tutti, eccoci qua a parlare, vabbè, volevo parlare un pochettino anche di Italia-Ucraina, ma più che altro delle parole di Milena Bertolini, che si è fatta sentire dopo, naturalmente, aver dato le dimissioni. Comunque, che dire di Italia-Ucraina, purtroppo gli asuri, gli strappagati falliti hanno vinto, peccato perché veramente era la volta buona in caso di sconfitta che si demoliva completamente la casa della Lega della Filch, andavano via anche gli inquilini di questa casa, naturalmente in particolare il presidente Gravina e tutta la sua combricola, e invece purtroppo la vittoria rattruppa sempre la casa. Quando una casa crolla bisogna farla crollare del tutto, bisogna dire la verità. Comunque, vabbè, la vittoria degli azzurri è meritata, è mancata più che altro l'Ucraina, sinceramente, perché io non ho visto veramente un'Ucraina che alla vigilia diceva, Rebrov, vendeva cara alla pelle, io non ho visto tutto questo, naturalmente. La doppietta dei fratesi, bravo lui, speriamo che si ferma nel derby, ecco, e niente, comunque, gli strappagati falliti rimangono in corsa, adesso si apre un mini gironcino togliendo naturalmente l'Inghilterra, perché ormai l'Inghilterra non deve fare più la corsa sull'Inghilterra, ma si sa, siamo sboroni e faremo anche la corsa sull'Inghilterra, quando l'Inghilterra ormai è strapprima nel proprio girone, quindi è impossibile addirittura raggiungere l'Italia, se si qualifica, si qualificherà col secondo posto, naturalmente, e sicuramente la partita decisiva sarà sempre quella in Ucraina, naturalmente. Scusate in Polonia perché non si gioca in Ucraina per colpa dell'invasione di Putin, Putin, ecco, ve lo posso dire, è un'invasione di Putin, ecco, lo dico ai falsi compagni, diciamo la verità, che ancora lo difendono. Comunque, parliamo delle parole di Milena Bertolini, perché si è fatta sentire, ricordiamo, chiuso il capitolo strappagati falliti, fa una settimana, o meglio, venerdì, non venerdì prossimo, torneranno in Campoli Azzurre, inizierà l'avventura nella Women's Nations League, ma chiamiamola pure Nations League, perché tanto è sempre Nations League, naturalmente, senza anche la parola Women's, e quindi inizierà l'avventura della Dalla Succina, naturalmente, ne parleremo di questa Nations League, che rispetto a quella maschile ha qualcosa di più rispetto veramente in questa femminile, diciamo che è una bella gatta da pelare, se vogliamo dirla tutta. Comunque, appunteremo questo argomento più avanti, parliamo delle parole, naturalmente, di Milena Bertolini, perché veramente al Corriere della Sera, perché ne ha dette tante, ne ha dette tante anche sulla scelta di Soccin, che l'ha definita una scelta patriacale, addirittura da parte della Lega Calcio, e sinceramente non posso dare torto a Milena, perché la scelta di dire, fare alternanza femmina-maschio, maschio-femmina, è patriarcale, è una scelta patriarcale, quale dobbiamo fare una scelta in base praticamente a dare un salto di qualità alla Nazionale, in base alla capacità di allenare, alla capacità naturalmente di amministrare una Nazionale, che comunque è professionista, ma sinceramente per la Lega Calcio è ancora dilettante, hanno dato questo professionismo in maniera, così come dire, un specchio della lodole, per far contente le calciatrici, ma sinceramente ha ancora una mentalità dilettante la nostra Lega Calcio, perché non si può, come ho detto, l'ho detto e lo dirò continuamente, ospitare la prima da Racking FIFA a Castel di Sangro, in uno stadio di 7.000 anime, ma è roba da mettere le mani nei capelli, nei capelli, non voglio ospitare, allora, io devo dire la verità, le azzure, non hanno, a parte la Sicilia con Palermo, ci sono state là, negli European Qualifiers per il Mondiale naturalmente, ma non sono mai state in Sardegna per dire, e la Sardegna ricordiamo è praticamente la patria della Torres, della storia del calcio femminile italiano, perché la Torres insieme al Foroni, al Bardolino, Verona, naturalmente, è la storia del calcio femminile, e le azzure non sono mai state in Sardegna per dire, comunque andiamo a vedere quello che dice Milena Bertolini al Corriere della Sera, perché ha fatto dei discorsi molto importanti, naturalmente, ve lo resumo un po' velocemente, perché ecco, il discorso, Milena ha parlato, allora, intanto ha parlato cambio generale, cambio generale giusto e necessario ha creato un po' blanco e un libro all'interno della squadra, lei praticamente aveva detto ancora ad aprile, dopo naturalmente, mi pare, sarà stato dopo l'amichevole, mi pare, contro la Colombia, che nessuno aveva il posto sicuro, compresa la Gama, ha detto che Girelli, Cernoia e Bartoli sono state le uniche tre a essere d'accordo con la CT, naturalmente, invece Sara l'ha presa male da subito, insomma, praticamente, qua sembra un discorso come è successo con Paolo e Gonu nella pallavolo, se vogliamo dirla tutta, che Mazzanti l'ha messa praticamente in panchina, e questo ha detto a raduno di aprile, ho parlato chiaro, tutte giocatrici più esperte, attenzione, il giovane di Premo, nessuno è il posto garantito, sarà inclusa, se verrete al mondiale, ho detto, potete giocare o stare in panchina, però il vostro contributo al gruppo sarà comunque importante, è il concetto di squadra che deve poi valere, con Girelli, Cernoia e Bartoli è nato un patto, mi hanno dato la loro disponibilità totale, Sara l'ha presa male da subito, ho capito che quel ruolo in Nuova Zelanda non avrebbe potuto reggerlo, e questo ha spiegato il perché non l'ha convocata, il clima era buono fino alla vittoria dell'Argentina, e questo lo abbiamo visto, vedevo sorrisi e allenamenti partecipanti, giovani entusiasti, mi sembrava che la professione prevalesse su qualsiasi necessità individuale, ma dalla partita con la Svesa, quando sono diventate titolari le piccole, chi non ha giocato ha messo il muso, questo è quello che dice, e l'atmosfera è cambiata naturalmente, praticamente si è sfaldato il gruppo, questo ha detto Milena Bertolini. Tre gol in fotocopia dalla Svesa, però questa è la domanda del giornalista, brave loro, errori nostri, beh inclusa, e si è autocopervorizza, mezz'ora il calcio bellissimo, poi abbiamo preso gol e sono emesse tutte le nostre facilità. Incazzare una rete da prima nazionale del Rack in FIFA ci sta, non va bene andare in fantumi, e quello purtroppo l'abbiamo visto, si sono fatte proprio prendere dal panico, l'abbiamo visto tutti praticamente dopo il primo gol, naturalmente si sono fatte proprio prendere dal panico le nostre. Il fine è il suicidio col Sudafrica, fatto 8 gol siamo andati in trance, ho cercato di conquistare le ragazze, calma, siamo comunque qualificate, niente, non mi ascoltavano, è subiettata l'ansia, tutti i gol li abbiamo presi su priorità numerica, e diciamo la verità che invece Sudafrica era più tranquillo anche dopo lo svantaggio. Dopo sei anni, due azioni di qualificazione, un bellissimo quarto di finale, a bovù e piossano donne sulla mappa, non poteva finire. Quello che ci è successo fa parte di una crescita, ma sicuramente ricordiamo che la Spagna, campione del mondo, il suo primo mondiale è stato pessimo, aveva detto il girone sull'Italia, parlo quello dell'European Qualifiers che portavano a Canada 2015, e la Spagna aveva chiuso quel primo mondiale femminile praticamente con zero punti. È stato pessimo e pensare che però quel zero point del 2015 ha portato alla crescita del calcio femminile spagnolo, e invece in Italia no. Perché? Perché le donne vengono considerate come i giovani del calcio maschile. Se sbagliano, pagano. Questo discorso è impossibile, è vietato sbagliare, e invece bisogna sbagliare per migliorarsi. Lo ha detto anche Alex Morgan, si impara più dalle sconfitte che non dalle vittorie. E infatti la Spagna lo ha capito ragazzi, perché la Spagna al mondiale di Francia 2019 ha passato veramente il turno. Ha giocato una grandissima partita contro gli Stati Uniti, se vogliamo dire la tutta. È stata la miglior partita della Spagna, nonostante l'eliminazione. E lì è cresciuta, continuava a crescere la Spagna, e invece l'Italia si è fermata a quel quarto di finale. Come negli uomini ci siamo fermati alla Coppa del Mondo 2006 e anche, possiamo dire, alla Heri del Unè del 2021, l'europeo naturalmente. Ecco, questo è il discorso. Ci fermiamo a vita solo perché quando vinciamo pensiamo di essere migliori, e invece non è così. Bisogna sempre migliorarsi. Infatti, anche qua lo dice Milena. Non è facile vedere piccole che ti passano davanti. Il Dragone ha 16 anni, ma la testa dà grande. Certo. Non puoi però mettere una del Barcellona B in un mondiale. Sinceramente nessuna nazionale lo farebbe. Nemmeno gli USA. Certo, la convocano, ma non mettendola a titolare. Anche se però Dragoni, devo essere sincero, non è stata la causa dell'eliminazione. Anzi, è stata l'unica che praticamente si è impegnata in tutte e tre le partite, se vogliamo dirla tutta. Potrebbe essere prima l'Italiano a vincere il Palone d'Oro. Noi ce lo auguriamo, ma non se ne parla neanche in Italia. Ne parlano più in Spagna che non in Italia, vedete voi. Ma se sei professionista, devi riuscire a starci dentro, a prescindere se la città ti sta antipatica. La Spagna ha vinto il mondiale dopo che metà delle caccia attivici aveva spedrucciato l'allenatore. Quella è maturità. Infatti, la Spagna quasi si è praticamente autogestita. Addirittura si parlava che c'era Alessia Puntelas, che non era proprio in forma, non era in forma a Alessia. Infatti, il Palone d'Oro non era in forma e dava l'indicazione addirittura a George Vlida. Vedremo naturalmente cosa succederà in questa situazione. Indovinate da che parte stavano gli italiani? Dalla parte di George Vlida, naturalmente. È così, purtroppo. L'Italia è patriarcale e su questo ha ragione, naturalmente, e lui dice anche Milena Bertolini. Si sta sempre dalla parte del maschio, insomma. Però in gruppo di don, soprattutto, ci sono anche le emozioni. La forza di un gruppo è collettivo, non il singolo. A battaglia, prescindere il calcio, noi le abbiamo combattute tutte. Ciascuna, nel suo ruolo. Non è facile vedersi soffiare il posto. Lo capisco. Sentirsi offese non aiuta e alla fine siamo andati a lezioni di umiltà da Sudafrica. Ed è vero questo. Che ha una cittadonna, ricordiamo. Ecco. La lettera finita la partita con Sudafrica, sono andata a consolare i giovani, mentre le atemi scansavano. Questo è quello che è successo nello spogliatoio di Wellington, naturalmente. C'era troppa rabbia il spogliatoio per fare i discorsi. Non è vero che mi sono chiusa in camera. È vero che loro si sono riunite e hanno scritto quel comunicato. Il volo di ritorno è stato allucinante. Infatti non abbiamo neanche saputo del volo di ritorno. Invece quando partono invece gli azzuri, lo sappiamo sempre, anche quando arrivano, anche nelle sconfitte, ricordiamo. C'è chi non ha più avuto il coraggio di guardarmi in faccia né di salutarmi. Ecco, questo è il punto. Poi si continua. Non ha accettato che lei abbia detto che abbiamo avuto paura. Non ho detto hanno paura, ma abbiamo avuto paura. Tutte certe ragazze fanno fatica viva e l'errore. E poi c'è l'aspetto social. Vedersi sommerse dalle critiche toglie lucidità. Quello è vero. La lettera è stata un'autorete passiesca per il movimento. E quindi critica la famosa lettera di cui ci sono anche Girelli, Bonansea e Giacinti. Si sono praticamente unite tutte. Le uniche che ricordiamo non si sono unite proprio sono state Dragoni, Giuliani e Beccari, se non mi sbaglio, Beccari. Queste tre non si sono unite praticamente a quella famosa lettera. Le altre sì. La forza mondiale era stata una squadra di donne. Perché la forza dei mondiali 2019 era stata una squadra di donne. Ecco, adesso torniamo a Francia 2019, ricordiamo. con CT donne, capaci di fare gruppo. Questo per l'Italia era stato il cambiamento culturale. Dove sono oggi le donne e gli stafi SRA femminili? Forse il 10%. E certo, ha ragione anche Milena Bertolini. È vero questo. È vero questo. Però ricordiamo che purtroppo il calcio femminile si è fermato. Si è fermato all'inizio 2000. È stato abbandonato per una questione, non si sa anche di immagine, e purtroppo anche della nostra religione. è inutile continuare. La religione cristiana, la religione cattolica, siamo ancorati anche, purtroppo devo dire la verità, al passato, al Papa, a Papa Voitila, Papa Giovanni Paolo II, che predicava che la donna doveva praticamente fare la madre, la sposa e anche predicava la castità. Ecco, questo è il discorso che vogliamo dire tutto. E naturalmente attaccava le comunità LGBT. Sappiamo che nel calcio femminile c'è una maggioranza di calcettrici, più che lesbici, ragazzi. Chiamiamoli di libertà. Perché nel calcio maschile, se ricordiamo, ricordiamo il povero Fascianu, che ricordiamo a Maidi Regol, è stato protagonista di un bellissimo video, bellissimo video, reportage, con Teo Teocoli nei panni di Peo Pericoli, che è andato a temovarlo l'Onda Wibledon, era un calciatore omosessuale, si ha dichiarato omosessuale, e dichiarandosi omosessuale ha perso il posto, ha perso praticamente il posto in squadra, è finito addirittura in depressione, e purtroppo si è suicidato. Se questo vi pare giusto, io non dico niente. Sul discorso delle donne, nel calcio è vero che sono poche, ma ti costringono anche in Italia a essere poche le donne, perché una donna che va a giocare a calcio e fa l'allenamento viene derisa in Italia, viene derisa come maschio, come maschiaccia, che poi sinceramente viene derisa in questa maniera qua. E quindi la donna si sente praticamente a disagio in una società, in una società purtroppo patriarcale, in cui ancora figura in un contesto di famiglia tradizionale che nemmeno esiste più ragazzi, perché anche quelli della famiglia tradizionale vanno dall'amante, Dio santo, si fanno tutti l'amante, si fanno tutti l'amante, si mettono tutti i belli innamorati su Facebook e dopo gano l'amante, dai, non esiste neanche più questo concetto. E quindi bisogna dire la verità, e anche purtroppo la società italiana che vuole questo purtroppo. Forse il 10% comunque, siamo considerati immagini, quaterose diventano necessarie, e l'hanno fatto, in Spagna l'hanno fatto il quaterose ragazzi, in Spagna l'hanno fatta. E noi ci mettiamo del nostro, siamo i peggiori nemici di noi stessi, ecco su questo, gli do ragione a Milena, perché non è vero purtroppo, donne contro altre donne, le donne cristiane contro le donne femministe, praticamente. Il femminismo qua in Italia viene considerato un male, un cancro, sia da destra che da sinistra purtroppo. Abbiamo dovuto aspettare, nel PD praticamente, se vogliamo dire tutta, bisognava aspettare il 2023 per avere una donna, quando c'era un ideotti, che poteva essere segretaria del Partito Comunista, poteva esserci anche Laura Boldrini, ci sono state tantissime donne, giamandi, posso dire, nel centro-sinistra, e mai sono diventate segretarie, sempre un maschio. È quello il discorso che vogliamo dire. Faccio il discorso lì, nella sinistra, perché l'è vero, perché purtroppo è venuto a parlare di quote rosa, di quote rosa, di equal pay, di parità, di genere, naturalmente quando metti in segretario sempre un uomo, e adesso che c'è una donna viene massacrata soltanto perché è anche donna, è progressista e dopo perché ha il passaporto in America ed è ebrea ed è lesbica. Non ci siamo proprio, e lo dico per i compagnucci che, guarda caso, invece preferiscono Vladimir Putin, tanto per dire, preferiscono Vladimir Putin. Vedete un po' come siamo messi, ragazzi. Non dico altro, ed è vero questo che dice. E qui fa la citazione bellissima a Michela Murgia. Aveva ragione Murgia quando diceva che servono due donne per far fuori una donna, ma così andiamo indietro, torniamo al patrocato. Ed è vero. Do ragione a Milena qua. Poi chiudiamo, andiamo veloci perché sono già 22 minuti, infatti sulla sua panchina si è sedito e adesso qua andiamo ad Andrea Succini. Gli auguro il meglio. Mandava a Calvacatta quell'onda positiva. sento dire che questo è l'anno zero. Allora, chi ha compiti di governo? Cosa ha fatto dal 2019 in poi? Niente. Certo, oggi c'è il professionismo importantissimo, ma la progettualità è un'altra cosa. Distribuire risorse alla base, lavorare sul territorio, far crescere le tesserate che si sono fermate, incentivare con la premialità e fare il settore bambine. Infatti, manca un settore bambine. Manca un settore bambine in tantissime squadre. Io ho guardato i video su YouTube, ragazzi, e ho visto ragazzine di otto anni fanno robe da adulto in America, ma hanno anche le strutture, e devo dire la verità, qua in Italia non ci sono le strutture per i bambini, ma soprattutto il discorso che vogliamo dire tutta nel calcio, ma in qualunque sia sport, lo sport in Italia è a carico della famiglia. È la famiglia che paga tutto. E ditemi voi, con gli stipendi che abbiamo, dove si è poveri, anche se si lavora, si fa otto ore o dodici ore e si è poveri lo stesso, perché quello che guadagni lo spendi nelle bollette, lo spendi nel bisogno familiare, naturalmente bisogna anche mangiare, ragazzi. ditemi come fa una famiglia, magari a far sport al figlio e alla figlia, che sia calcio, che sia qualunque, anche la palla a volo, ragazzi, anche la palla a volo. E nelle scuole medie, ragazzi, quando facevo le medie, io, se vogliamo dirla tutta, vedevano l'educazione fisica come un ostacolo, veramente, come un ostacolo per le altre materie, addirittura, addirittura dopo l'educazione fisica non si aveva neanche il tempo di farsi la doccia, si andava subito in classe, dopo essersi cambiati, sudati, e si bussava anche, se vogliamo dire, se faceva anche caldo, perché si sudava, naturalmente. All'estero non è così, ragazzi, in America alle medie si fanno la doccia, anche agli elementari le fanno la doccia. In Francia, in Francia lo sport è pagato dallo Stato, è lo Stato che ti fa dire che devi fare dell'attività sportiva, è a carico dello Stato. Addirittura il nuoto, se vogliamo dirla tutta, purtroppo io non so nuotare, devo dire la verità, e faccio fatica, avevo proprio paura ad andare sotto con l'acqua, sotto in acqua, avevo veramente paura a questa cosa qui, e è obbligatorio per tutti quelli che fanno sport, anche un calciatore, una calciatrice, una giovane, devono fare nuoto, il nuoto è proprio obbligatorio, pensate un po', in Francia, in Francia, ecco, questo per dire, per dire questo, quindi questa cosa qua, deve cambiare, deve esserci un aiuto dal governo, naturalmente, ma questo governo, figurati se lo fa, figurati se lo fa, e abbiamo la prima donna premier in Italia, figurati se lo fa questo governo, non aiuterà mai, perché questo governo vede la donna in casa, a essere sottomessa al marito, perché deve fare la madre, la sposa, la madre, e la casalinga, ecco, scusatemi che mi sono un po' impappinato, ecco, continuiamo, e la promozione nazionale, noi abbiamo fatto partite in casa, in cui erano molti di più tifosi avversari, è confono, è vero, è vero, ed è successo con l'Italia di Cabrini, a Verona si giocava, praticamente, il playoff di ritorno contro l'Olanda, per andare a Canada 2015, ricordo, ecco, e vabbè, pioveva, devo dire la verità, pioveva, purtroppo io volevo andarci, perché, cacchio, è playoff mondiale, per andare ai mondiali, l'Italia veniva da un bel pariggio, uno a uno in terra olandese, poteva veramente farcela, e purtroppo il Bentegodi era vuoto, erano più i tifosi olandesi, che non quelli italiani, e parliamo di una città, Verona, Verona, che è simbolo del calcio femminile italiano, come ho detto prima, i Foroni, Bardolino, la GSM Verona, hanno vinto più scudetti, le ragazze, che non la, l'eterna squadra maschile, ma ragazzi, Verona è sempre stata patriarcale, abbiamo avuto, la passata amministrazione, che ha fatto un convegno, ha fatto un convegno, ve lo posso garantire, dove diceva che l'uomo è un muro, la donna deve essere considerata un pavimento, cioè ragazzi, allora siamo sempre lì, questo è stato fatto, nella sede dei Christus Res, tanto per dire, quella specie di reggia, che si trova in via albere, e io spero ancora, che Damiano Tommasi, la faccia chiudere, continuo a dirlo, ma purtroppo è inutile, la chiesa ha un potere qua, in questa città, ecco, e andiamo avanti con, le ultime parti, cosa ci dice dell'Italia, fuggi fuggi di allenatori, che da noi manca un progetto, che ti faccia pensare, che il calcio femminile, sia qualcosa di importante, a livello culturale, un problema di testa, ed ho ragione, è inutile con te, è quello che ho detto prima, naturalmente, corre adesso, questa avventura, sull'ottovolante, io penso di aver lasciato, in realtà, una squadra rinnovata, che ha un futuro, però dobbiamo ritrovare, tutto un po' di umiltà, e soprattutto, deve cambiare la società italiana, non si può ragazzi, non si può ragazzi, deve cambiare la mentalità italiana, non si può, perché, io l'avevo letto, quando Topolino, c'era una bellissima, bellissima rubrica, dell'essere Topolino, con la cara, con piante, Valentina De Poli, licenziata, perché, è troppo di sinistra, naturalmente, e, gli hanno dato la colpa, del calo delle vendite, ma sicuramente, era per me, il Renziano, Vertani, guarda caso, e, c'era una bellissima rubrica, di Federico Taddia, Federico Taddia, era, il conduttore, dell'altro lato, un programma di Radio 2, chiuso, praticamente, proprio nell'anno, anche di, grazie per averci scelto, e, c'era una ragazzina, e, dava, una bellissima rubrica, che dava, lo sfogo, ai ragazzi, alle ragazzine, naturalmente, contro, ai genitori, contro la società, contro, contro i popi coetani, e, c'era, un, bellissima, una lettera, bellissima, una bellissima, piccola intervista, a una ragazzina, che gli piaceva giocare a calcio, veniva, derisa, dai, coetani, perché, lei, voleva giocare a calcio, con loro, e non gliela facciamo giocare, perché, sei una ragazza, sei una bambina, non puoi giocare a calcio, siamo, è bello, che lei era più forte, addirittura, dei colleghi, dei coetani, cioè, vedete un po', come siamo messi, vedete un po', deve cambiare, la società italiana, non si può, stare con una mentalità, del 1023, ragazzi, devo dire la verità, la ragione è Rula Jubral, quando, ed è stata attaccata, da quel, coglione di Salustri, se vogliamo dire tutta, quando ha detto, la donna italiana, o è, o è santa, o è, puttana, ed è vero, purtroppo, o è madre Teresa di Calcutta, o è cicciolina, e guarda caso, viene, viene, viene considerata cicciolina, del calcio, vedere nei programmi sportivi, la donna, che si mette così, a mostrare quasi la Yolanda, per me, quello, è, è sessismo, quello, è misoginia, non è sport, quello, è, è cercare, è cercare di attirare il pubblico, maschile, che guarda caso, guarda il calcio, con, la gnocca, praticamente, mezza nuda, naturalmente, e dopo, si va ad attaccare, Sofia Federico, perché va, l'accademia di Rocco Sicfredi, ma ragazzi, Sofia, l'accademia di Rocco Sicfredi, è una scuola, non perché una, è una porno stare, è una puttana ragazzi, è un lavoro, si chiama, lavoro, ok, e poi siete voi, che andate in cerca, proprio di lei, perché siccome avete la moglie, o la fidanzata, che non ha voglia, di soddisfare le vostre, i vostri ormoni, se vogliamo dirla tutta, vabbè, dai, vi chiudo qua, è già 32 minuti che parlo, e sinceramente sono anche troppi, e io vi saluto, naturalmente, ci vediamo questo weekend, per parlare della serie A, naturalmente inizierà venerdì, anche addirittura, e quindi ci vediamo già domani, parlare di serie A, e parleremo anche della serie B, perché ragazzi, anche la serie B, quest'anno è bella, e dopo, naturalmente, ci butteremo, sulla Nations League, ecco, vi saluto, spero che vi è piaciuto, scrivete i vostri, opinioni, e, mettete mi piace, iscrivete ragazzi, per Gialappas Bar, ecco, e ci vediamo, alla prossima, ciao a tutti,